Salve tutti amici di Amazon, unboxing di questo prodottino qua che si chiama oggetto ci sarebbe anche un manuale di istruzioni ma che adesso non ho qui ma che trovate comunque in confezione comunque vi dico io che cosa c'è all'interno della confezione poi vi faccio vedere come teoricamente dovrebbe funzionare io l'ho provato diciamo principalmente oggi a lavoro ok adesso vi racconto un attimo la mia esperienza e cosa penso di questo di questa fresa ecco diciamo che non mi ha convinto al cento per cento allora cominciamo intanto a parlare della confezione di cosa comprende allora abbiamo questi set di punte qua che sono tipo delle frese con appunto del materiale diamantato vedete quindi delle fresette poi cosa abbiamo abbiamo altri due porta utensile allora all'interno ve lo faccio vedere subito all'interno qua vedete che c'è togliamo 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 vedete che c'è questo accessorio qui che serve per tenere una di queste punte quindi se vi si rompe ne avete altre due di ricambio molto semplicemente ok poi che cosa abbiamo ancora in confezione secondo ok appunto avete altri due di questi in da poter sostituire poi qua abbiamo due cuscinetti per distribuire la la pasta lucidante che è all'interno di questa scatola qui ok tiriamo fuori tutto così facciamo prima allora ok pasta lucidante abbiamo i dischi poi ci sono i dischi diciamo da taglio ok adesso ho tirato fuori tutto quindi stavo dicendo dischini in velcro ok dei dischetti tipo di tessuto i quali vanno utilizzati con questo accessorio qui che questa questa vite con questo paletto con una vite la quale andrà a diciamo a dovrete agganciarla all'interno del velcro in questo modo e adesso potrete distribuire qua la pasta e lucidare quello che c'è da lucidare ecco molto semplicemente quindi questo ve l'ho mostrato mettiamo via la pasta ve la mostro subito la pasta eccola qui eccola qua dentro abbiamo dei dischi ok abrasivi classici che sono veramente tanti ma che trovo relativamente un po' inutili adesso vi spiego perché poi dei dischi a taglio che trovo leggermente un po' più utili ma anche questi qua diciamo che diciamo che per il legno va bene per il ferro già se dovete tagliare un pezzo di ferro spesso 5 mm non ce la fa ci mettete tanto tempo quindi sì torniamo agli vari set questo qua è il porta il porta questi cosetti qua abrasivi ce loro vanno inseriti qua dentro l'unico problema è che sono sono troppo larghi quindi appena voi vi mettete a consumare qualcosa questo qua tende a spostarsi su e giù su e giù e quindi non resta fermo non resta qui fermo dove deve stare ma continua vedete io anche il semplicemente con un po' di pressione riesco a spostarlo quindi non è fatto proprio propriamente bene bene ne avete dopo che ne avete quattro ok poi cos'altro c'è abbiamo l'ultimo deve una classica punta di ferro per fare dei buchi che funziona funziona bene e poi abbiamo l'ultimo che è il porta abbiamo questo accessorio qua che serve a installare i vari dischi abrasivi allora vi faccio vedere subito come funziona niente lui ha una vita nel mezzo voi andate a svitare potete farlo anche a mano però io per praticità vado con il cacciavite quindi una volta che l'avete svitata in questo modo cosa fate andate a metterci un disco quindi prendete un disco da qua lo cercate di incastrare nel buco ripeto il buco è fatto decisamente troppo stretto quindi se fate troppo pressione rischiate di spaccarlo perché vi faccio vedere questi dischi sono adesso vi faccio vedere subito quindi fatete così lo diciamo lo puntate poi cercate di avvitarlo di avvitarlo con il cacciavite perché veramente non entra se no lo avvitate perché spingendo rischiate di spaccare il disco una volta che è uscito diciamo dall'altra parte potete andare a installare tutto ecco potete andare a installare l'altro a mano e poi concludere con il fissaggio ecco questo è il procedimento corretto se andate a spingere troppo succede che si spacca perché anche questi dischi qua sono si rigidi ma basta che ecco vedete sono decisamente di bassa cioè bassa qualità sono molto sottili quindi sono anche molto facili da rompere ecco adesso poi vi parlo di come funziona questo dispositivo qua semplicemente avete un tasto di accensione avete tre potenze quindi spingete una potenza 1 potenza 2 potenza 3 rispettivamente sono 5.000 10.000 15.000 giri al minuto ok con il quarto clic si spegne quindi 1 2 3 4 e si spegne questo qua è il perno per svitare e avvitare diciamo il mandrino per tenere gli utensili quindi voi lo tenete premuto lui troverà un punto dove si incastrerà e vi permetterà di svitarlo vedete che adesso lui si svita e adesso vi permetterà di mettere all'interno l'utensile una volta inserito dovete semplicemente sempre tenendo premuto andare a rifissarlo fino a che arriva in battuta quando è duro potete mollare ed ecco adesso vedete vedete che funziona ecco molto semplicemente adesso vi faccio vedere come montare il disco abrasivo di carta ma ripeto è un po' inutile adesso vi spiego perché scusatemi piccola interruzione allora ho smontato il disco a taglio che vi ho appena mostrato adesso proviamo ad andare a mettere un disco abrasivo normale quindi per diciamo carteggiare ecco allora prima cosa sono di carte quindi veramente si rompono cioè si possono piegare con estrema facilità ma la cosa che giustamente non capisco è come faccio a utilizzarli se sono così molli nel senso che io ho capito che posso andare a installarlo qua e adesso vi faccio vedere in che modo giustamente io devo andare a fissarlo qui quindi dovrò andare a metterlo così quindi l'ho fisso quindi l'ho fissato però spiegatemi come fa questo coso a potermi permettere di cioè allora partendo dal presupposto che la vite fa spessore e automaticamente io non posso neanche mettermi diciamo così perché non tocca neanche tocca la vite ok non sto salendo l'idea se giustamente devo consumare questa parte qui ditemi come faccio che tocca la vite devo mettermi inclinato però vedete che non posso neanche esercitare forza perché si spacca tutto quindi sono inutili non si possono usare non si possono usare oppure magari bisogna usare questo magari può darsi che bisogna usare questo con la gommina forse faccio un test ma comunque non ha senso neanche questo perché comunque quando andrò a mettere un disco e ci metto sopra la vite c'è sempre la vite che fa da spessore indipendentemente da aspetta fatemi fotte forse no fatemi vedere una cosa smonto questo qua allora smontiamo questo io voglio montarlo di qua come si monta ora dove è la vite eccola qui sì non cambia assolutamente niente cosa cambia? non cambia niente perché tanto forse magari devo tirarla un po' di più ma inevitabilmente comunque resta sempre fuori quindi è inutile ecco vabbè ho finito vi ho mostrato tutto il kit diciamo che indicativamente quelle che funzionano sono le tutte le punte diciamo queste qua di rosa il velcro con la pasta se volete utilizzarlo la punta per fare i buchi e poi c'è quest'altra punta qui che serve per incidere piastrelle o altri materiali particolari che sicuramente potrebbe funzionare ma per il resto diciamo anche tutto un po' inutile perché è fatto è fatto senza pensare a come utilizzarlo ok dopo sicuramente può essere utile cioè può essere utile possono essere utili sia per il ferro che per il legno magari hanno più effetto sul legno che sul ferro appunto perché questo dispositivo qua è piccolo e quindi non si può permettere di cioè essendo un po' piccolino non ha la forza necessaria magari a consumare tanto il ferro il legno magari sì io ho provato anche a tagliare con il disco abrasivo riesce a tagliare il legno e lo taglia tranquillamente ovviamente se spingete troppo forte il motore tende a perdere di potenza perché state spingendo troppo forte e non ce la fa quindi spero che questo unboxing e questa chiacchierata con me vi sia stata utile diciamo che il prodotto di per sé non costa neanche tanti soldi costa appena 20 euro però personalmente adesso io lo volevo utilizzare per lavoro per togliere della ruggine da qualche pezzo di ferro e tutto sommato non mi ha aiutato diciamo mi viene sempre più semplice andare a prendere la molla disco e usare quella perché questo qua non riesce questi si spostano questo non riesco a metterli questo qua vabbè non mi serve ma comunque non riesce a tagliare effettivamente quanto dovrebbe quelle uniche che possono essere utili sono queste qua rosa basta questo è quello che posso concludere io ecco dopo l'unica cosa carina è che è ricaricabile quindi avete il cavo qui usb micro usb che lo usate per ricaricarlo ecco spero che questo unboxing ripeto vi sia stato utile e niente vi lascio qui sotto una recensione scritta un caro saluto da Thomas e il vostro amico di Amazon ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti